Oggi a terza pagina snoccioliamo una particolarissima classifica, quella cioè relativa agli ascolti dei compositori classici nell'ultimo mese sulla nota piattaforma Spotify. Guida la classifica Johann Sebastian Bach con oltre 7 milioni di ascolti. Al posto d'onore Beethoven, che non sfrutta la ricorrenza del suo 250esimo anniversario per ottenere la testa della classifica. A Mozart il terzo gradino del podio, una emblematica del gusto degli ascoltatori, la totale assenza del Novecento tra le prime dieci piazze, fatta salva la presenza in un ottimo quinto posto per Debussy, che comunque su quel secolo si affaccia a buon diritto. È l'Ottocento a farlo ovviamente da padrone, da Beethoven appunto a Brahms, passando per Chopin, Schubert, Liszt e Grieg. Ma dopo questa galleria di classici, passiamo al nuovo progetto rock di Carmelo Pipitone, chitarrista tra i più importanti italiani e fondatore del gruppo Marta Sui Dubbi. Tu l'abbracci sotto il sole così da poter avere tutto di lui, anche la grazia è quella cosa che ancora non conosci. Io in questo disco che appunto si chiama Segreto Pubblico, ho lavorato tantissimo sul personaggio X, se vuoi l'assassino che è un po' dentro tutti noi, insomma, questo potenziale assassino che vive dentro di noi. Ho visto i lati cupi di questo personaggio, ma ho anche visto i lati positivi, nel senso la vita reale di una persona che poi arriva ad uccidere addirittura, che è la cosa più avverrante, più, se vuoi, anche schifosa, permettimi il termine, di un uomo che arriva appunto a decidere di chiudere l'esistenza di un altro essere umano, così con un gesto. Ma questa persona che ha ucciso ha sicuramente anche riso, ha sicuramente accarezzato, ha sicuramente amato, ha fatto tante cose nella sua vita, ma verrà, e giustamente, ricordato per sempre, per l'atto estremo che ha compiuto. Il segreto pubblico lo considero come il prolungamento, se vuoi, del primo disco di cornucopia, e meno grezzo anche se continua ad essere cupo e magari anche intenso, mi permetto di dire, ma con una cognizione di causa, anche con un pensiero più forte, forse anche con un pizzico di esperienza in più. Ho aggiunto poi, tecnicamente, anche una batteria e un basso e mi sono un po' divertito, diciamo, a suonare anche con altre persone.